Lo sapete come mai Jungle Kiona si chiama Jungle Kiona? Oggi ve lo spiego io in un nuovo appuntamento con un lariatto al giorno. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, una delle voci di lariatto e anche oggi sono qua per raccontarvi qualcosa che riguarda il mondo del puro reso. E oggi vi racconto come mai Kiona Iano ha deciso di farsi chiamare Jungle Kiona. Ovviamente noi siamo qui con un lariatto al giorno ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify per raccontarvi dalle lunedì al venerdì un piccolo aneddoto riguardo il mondo del puro reso per farvi scoprire un po' più a fondo quelle che sono le particolarità. E oggi una particolarità è davvero interessante perché lo sappiamo siamo per parlare di uno dei nomi di punta della Stardom fino a poco prima della pandemia che sicuramente l'ha vista poi prendere un periodo di pausa, avere qualche problema riguardo poi la prematura scomparsa di Anakimura e a staccarsi poi dalla federazione e vivere una serie di infortuni che insomma la stanno facendo un pochino tribolare da un po' di tempo. Però in Stardom ha vinto tre volte il titolo di coppia e tre volte anche il titolo trios, ma ha iniziato la sua carriera a 24 anni solamente nel 2015. A differenza di molte sue colleghe che decidono di darsi al wrestling fin da tenerissima età, lei si è concentrata prima sulla beneficenza passando, pensate, quasi tre anni in Senegal ad aiutare a insegnare ai bambini insomma come insegnante di educazione fisica. È stata molto brava e sicuramente questa esperienza le ha dato anche modo di ricordare insomma il tutto con il suo nome diventando Jungle appunto ricordandosi il periodo che ha passato in Senegal come insegnante. Molto brava Jungle Chiona, sicuramente una persona ad oro, sicuramente una persona che speriamo di rivedere presto sul ring in ottime condizioni da cui speriamo di dedicare altri episodi di Un Lariato al Giorno. Grazie per aver seguito anche oggi, ricordate siamo qua ogni mattina alle 8 del lunedì al venerdì su YouTube e su Spotify per parlare di wrestling giapponese e io sono qui per raccontarvelo. Grazie di cuore a tutti, noi ci risentiamo, alla prossima! Grazie a tutti!